Ecco, via Pietro Nivenzi asfaltato con la via Abade Nitti per la corsa rosa per il passaggio della carovana rosa per la nuova e per il vato a Cicciano per poi andare a politica e terminare la tappa a Cusano. Intanto, oggi, sempre una giornata più normale, sarà anche infettante il regiglio di Palatino che sarà cornice del passaggio. A Piazzetta Immaculare. Speriamo bene. Grazie.